Giovanni Buzurro, residente in Messico da oltre 15 anni, è il nuovo presidente del Comites del Messico, il Comitato degli Italiani all'estero. Un prestigioso incarico che premia la figura e il ruolo di un siciliano agrigentino figlio di una bellissima famiglia, come sta da tre fratelli Francesco e Roberto e dai suoi genitori Alfia, Rachele e Salvatore. I Comites sono gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero nel rapporto con le rappresentanze e diplomatico consolari. Giovanni Buzurro è stato candidato ed eletto nella lista Italia nel cuore, legata al MAI e Movimento per gli Italiani nel mondo, stato coordinatore nazionale nello Stato del Messico nel 2018. Giovanni Buzurro, nato e cresciuto e sposato in Sicilia con una messicana, Claudia, ha due figli, Valentina, è diventata una famosa attrice e Roberto decide per amore della moglie di trasferirsi in Sud America nel 2008. Una scelta difficile e coraggiosa per seguire la famiglia e tentare di ricostruire la sua vita, soprattutto la sua attività di artista, in una terra inizialmente diversa e lontana, ma poi incantevole, familiare e calda come la Sicilia. Dinamico, simpatico, vulcanico, nostalgico della sua terra, musicista eccellente, ha intrapreso come suo fratello Francesco la carriera musicale, divenendo un punto di riferimento con il suo basso e suonando e concertando i più importanti musicisti del Sud America con enormi successi di pubblico e di critica musicale.